Sindaco, si registra un altro grave episodio? Sì, purtroppo un altro episodio malavitoso si è verificato questa notte in via Rossini, in un posto nel quale stava per essere ristrutturata l'abitazione in cui visse per un periodo della sua vita l'onorevole Presidente della Corte Costituzionale, Gaspare Ambrosini. È un episodio inquietante che mette a rischio l'ingolumità tra l'altro delle persone che abitano nella zona e che creano problemi seri in ordine alla tutela dell'ordine pubblico in questa città. Vorrei innanzitutto esprimere alla ditta esecutrice dei lavori la mia personale solidarietà e quella dell'amministrazione comunale dell'intera città per questo vile atto intimidatorio che sicuramente sarà compiuto e è stato compiuto questa notte nei confronti della ditta alla quale auguro una immediata ripresa dei lavori dopo ovviamente che saranno svolte tutte le indagini da parte degli organi inquirenti. Questo fatto avviene a distanza di pochi giorni da un altro che è quello che si è registrato in Piazza della Vittoria. C'è quindi forse e senza forse una ripresa della recrudescenza mafiosa mi auguro che coloro i quali hanno fatto questi atti intimidatori nei confronti di queste due ditte possano essere presi e consegnati direttamente alla giustizia nel breve volgere di poco tempo.